Ciao a tutti da Vittorio, si parla tanto di acquisti ma in realtà la Lazio adesso deve cedere, si è parlato di James Rodriguez, addirittura di un clamoroso ritorno di Correa, ma adesso la Lazio deve vendere e non è solo un problema economico ma è un problema di lista. Infatti da un po' di anni, lo sapete anche voi probabilmente, la Serie A ha introdotto questa regola inutile sostanzialmente della lista dei 25 giocatori, l'idea era quella di aumentare il numero di calciatori italiani all'interno delle rose per rafforzare la nazionale italiana. I dati ci stanno dicendo che questa lista, questa idea della lista è un fallimento totale ma continua e limita in modo importante i club perché sostanzialmente tu puoi presentare una lista di massimo 25 giocatori over 22 ma di questi 25, 4 devono essere cresciuti nel tuo vivaio e altri 4 in altri vivaio di altre squadre europee. Il problema che vediamo in praticamente tutte le big è che i 4 cresciuti nel proprio vivaio non ci sono quasi mai, se guardate l'Inter, la Juve eccetera vi accorgete che dei 4 non c'è quasi mai nessuno. E discorso simile per la Lazio, la Lazio infatti nel vivaio ha Danilo Cataldi che è l'unico che gioca e Furlanetto che attualmente è stato inserito ma non si sa bene il suo futuro potrebbe andare via in prestito come ha fatto negli ultimi due anni. E questo limita la Lazio perché attualmente facendo la lista degli over 22 la Lazio si ritrova con la lista completa ovvero 23 calciatori già inseriti e giocatori anche già fuori dalla lista Basic, Akpak Pro e Fares sono fuori lista per cui anche se c'è di Fares o Akpak Pro non puoi prendere nessun altro giocatore da inserire in lista perché già la lista è piena. E quindi capite che la Lazio adesso deve decidere che cosa fare, se cedere qualche giocatore inserito in lista oppure non fare più acquisti perché se dovesse entrare, faccio un esempio, James Rodriguez anche se lo ritengo difficile, deve uscire qualcuno. Pedro, Marusic, Isai, qualcuno deve per forza uscire altrimenti tu puoi comprare un giocatore ma quello non può essere inserito in lista a meno che tu non prendi Isai e lo metti fuori rosa e quindi paghi il giocatore ma senza rivendolo. Questo lo sapete che non è una cosa che rientra nei piani di Claudio Lottito quindi da qui alle prossime settimane la Lazio dovrà decidere se vendere un giocatore come Isai che, tanto per fare un nome, essendo entrato Nugno Tavares è un giocatore che può essere ceduto senza essere sostituito visto che è già arrivato tra virgolette il suo sostituto. Ma potrebbe esserci un pensiero per Vesino visto che al centrocampo siamo messi bene o Pedro, giocatore che obiettivamente quest'anno fa fatica a giocare visto il numero di attaccanti. Insomma, la Lazio ha bisogno di cedere almeno un paio di componenti oltre a Fares, ACPA Pro e Basic che sono già fuori lista. Quei tre se vengono ceduti non cambierà niente per la Lazio in termine di lista e mi collego al discorso fatto ieri per la fascia di Capitano e Cataldi. Cedere a Cataldi sarebbe un errore clamoroso oltre che una stupidata perché se tu cedi Cataldi non liberi un posto perché Danilo Cataldi è, come vi dicevo prima, uno dei due giocatori cresciuti nel Vivaio Lazio. Quindi se cedi Cataldi non è che liberi uno slot a meno che non vai a prendere un altro giocatore cresciuto nel Vivaio Lazio. E al momento in Serie A, se non mi sbaglio, l'unico giocatore cresciuto nel Vivaio Lazio è Foloruscio e quindi solo se prendi Foloruscio puoi cedere Danilo Cataldi. Altrimenti l'accessione di Danilo Cataldi non libererebbe slot ma anzi costringerebbe la Lazio ad avere anziché 23 giocatori over 22 ne avrebbe solamente 22. Discorso cambia se si considera gli under 22. Lì non si hanno limiti e quindi la Lazio potrebbe comprare un giocatore under 22. Certo, comprare un giocatore forte under 22 significa spendere tanti soldi, però potrebbe essere una soluzione per evitare questo problema, questo blocco. Bisogna andare a trovare un giocatore under 22 forte. Si era fatto il nome di Bellingham, si erano fatti tanti nomi a gennaio. Vediamo se questa sarà la linea di pensiero della Lazio. Attenzione a Tati Castellanos perché se dovesse essere ceduto Tati Castellanos a quel punto si potrebbe liberare uno slot e bisognerebbe vedere quello che farà la Lazio. Ma al momento la Lazio deve cedere oppure andare a prendere un giocatore under 22. E voi che ne dite? Iscrivetevi al commento qua sotto e noi ci ritorriamo dopo con un altro video. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie.